è qua, è qua si vai Leonardo fai vedere come si smonta l'armadio smonta le porte di sviluppo passa l'altra serie, sempre dalle stelle quest'altra porta è rimasta, mi raccomando non hai graffiare no no vai ok sbondi il letto pure qua oh questa è questa è la prova di scopata ottimo